Non hanno saputo dare parole ancora a certi terremoti Le scale saltellando gradini le ore del franzo Si pensa per l'acqua di fiori che scorrono dai dalanzari assolati Rossi Le previsioni dicevano pioggia, scurdo e cortile La tesoria, il museo Solo per questo Si sono improvvisate scritture Sembrano rumori croccanti da sgranocchiare L'immobilità sorta dei minuti Le ore del giorno passato che si esplice Il cielo si ricurva Ed è prima dell'arrivo Che le luci compaiono sui contorni Invece del sonno Si accalcano i momenti A cercare gli inizi Una porta Priva di maniglia E fessure Si chiude Al di là Tutti gli altri Il vento Il vento Dalla sua Dalla sua pena Spingerti Arricciarti Disindortarti I naprovati E naprovati Argamenti Oprementi L'escrizione Petters in un suono di bocchia Al qualche torneranno i gnave Loro movimento di idee Suono incontriute di forti Tutte le sfogliature Pronte durante, pronte dopo Il mutamento lento Roteando i storici silenzio Sdraiato, sparsi Ne importa bene L'acqua di superiore Si ringrazia sempre Tutta conmozione In barba In gola Ai primi Oggi non fuggi Voi spragliare E tu Non sfuggi mai 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 Non sfuggi mai Mai Alte eternità Grazie 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 La frequenza che suoniamo è accordata a 432 Hz Invece che i canonici 440 Perché la frequenza 432 è una frequenza canonizzata sull'agonia della terra E quindi è benefica per il nostro cervello Il mondo emotivo Perché il equilibrio è di sparcire E allora Grazie 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 a tutti